Quindi System Integrator va da sé, si viene a lise perché, perché è la fiera per l'integrazione dei sistemi, più che altro per vedere quali sono le possibili novità, se ce ne sono, anche se è difficile, visto che durante l'anno siamo costantemente aggiornati dai vari agenti, ma soprattutto per vedere soluzioni particolari con prodotti che già conosci e ne abbiamo viste diverse. Quindi diciamo che tra le cose che mi hanno particolarmente impressionato quanto ha novità è questa possibilità ormai abbastanza diffusa, vedo, disponibile, della tecnologia OLED nel settore professionale, che dà dei risultati dal punto di vista cromatico che ormai sono stupendi. In questo la LG, ho visto che ha fatto che si displayano sottilissimi, 3,6 mm, che aprono a una mente effervescente mille possibili soluzioni da proporre ai clienti, no? Anche bifaciali. Il display della Sony, che non è dichiarato OLED, ma secondo me la tecnologia deve essere quella perché il risultato è più o meno simile a quello che abbiamo visto in LG. Non mi piace molto, invece, devo dirvi in tutta onestà questa deriva pazzesca attraverso i sistemi di presentazione, cioè qualunque azienda ha mortificato, sacrificato, credo, altre cose forse più interessanti a nome di questa, vabbè, la richiesta del mercato, le piccole aule in cui c'è un display con cui posso collaborare in modo locale o remoto. anche un, insomma, un po', se ne fin troppe adesso, voglio dire. Alcune però fatte molto bene, abbiamo visto il sistema Cisco? Ecco, lo Spark è fatto molto bene perché consente una collaborazione tra più punti utilizzando device di qualunque genere e con integrata funzione di lavagna interattiva bidirezionale. Quindi diciamo che in questa miri di proposte ci sono anche delle eccellenze.